Avete una macchina con oltre 500 cavalli, non vi accontentate, volete ancora più potenza? Seguite il video e vedete che cosa abbiamo fatto su questa SQ8, ultima arrivata di casa Audi. Allora, qui abbiamo una SQ8, come dicevo nella premessa, è l'ultima versione della serie Q8, quindi un motore V8 a benzina, nello specifico è lo stesso, la curiosità di questo motore, che è lo stesso motore della Ursus, che magari alcuni non sanno cos'è, ma è il SUV della Lamborghini. L'unica differenza, quindi sempre un V8 4.000 di cilindrata, la differenza ovviamente è che il motore Lamborghini eroga 666 cavalli, questo di base eroga 507, quindi diciamo che la geometria e l'architettura del motore è la stessa, poi ovviamente sono state fatte delle modifiche per avere più di 150 cavalli di differenza, ma ci sta col fatto che appunto la Lamborghini ha un'immagine e ovviamente debba avere una differenza con una vettura più performante come questa. Però diciamo che la sostanza sono motori praticamente identici. Questa è una macchina nuovissima, credo che abbia 1500 chilometri, e il cliente ce l'ha portata chiedendo appunto di avere un upgrade di potenza. Ovviamente essendo la macchina così recente e soprattutto essendo un Audi, perché come ripeto sempre ci sono alcuni marchi che stanno più attenti su alcune cose, su alcune modifiche e alcuni marchi che magari ci passano un pochino più sopra. Diciamo che in generale tutti i marchi tedeschi e in maniera particolare Mini e Audi sono estremamente attenti al fatto che il cliente vada a modificare o toccare o ottimizzare i valori della centralina. Quindi su una macchina come questa, gioco forza, abbiamo dovuto proporre al cliente, comunque con soddisfazione, il discorso della S-Eletron. Teniamo conto che questa vettura qui ha, analogamente a una BMW 750 che abbiamo fatto vedere in un video un po' di tempo fa, la doppia gestione elettronica, cioè essendo un V8 ha quattro cilindri da una parte e quattro cilindri dall'altra e ognuno è gestito da una centralina elettronica separata. Quindi abbiamo dovuto mettere due centraline che dialogassero con la centralina destra e con la centralina della bancata sinistra. Nello specifico le centraline sono queste. Adesso qui abbiamo tolto un carterino di protezione, per cui mettendo il carterino, ve lo faccio vedere, che poi andremo a montare nella giusta maniera, ovviamente quando sarà montato non si vede assolutamente niente. L'unica accortezza, come diciamo noi a tutti i nostri clienti, prima di portarli in assistenza, bisogna staccare i cablaggi che sono appunto nei tre punti di bypass e ovviamente staccare la centralina, ovviamente ricollegando i cablaggi in linea. Una volta fatto questo, in memoria non rimane assolutamente niente, per cui qualunque concessionario, se questa macchina dovesse mai avere delle problematiche, qualunque concessionario a livello di garanzia non potrà dirvi assolutamente niente. Quindi venendo alle prestazioni abbiamo detto che questa macchina eroga di base 507 cavalli, con le doppie centraline, facendo una mappatura non estrema, abbiamo calcolato 54 cavalli in più, 70 Nm di coppia in più rispetto all'originale. Teniamo conto, vi do altre due indicazioni di che cos'è questa macchina, già stock, è una macchina che pesa 2300 kg, quindi più di due tonnellate, ed è autolimitata a 250 all'ora, ma la cosa straordinaria è che fa uno 0 a 100 in 4 secondi e 2. Questo come macchina stock, figuriamoci appunto col discorso delle centraline aggiuntive, ovviamente le prestazioni aumenteranno. L'unica cosa che, premetto, non si può modificare attraverso un collegamento esterno come questo, è l'autolimitazione a 250 all'ora, perché per poterlo fare bisogna per forza intervenire sulle centraline originali. Quindi, ovviamente, data la premessa che abbiamo fatto, dove non vogliamo che il cliente abbia problemi con la garanzia, per il momento, fin tanto che la macchina sarà in garanzia, se la terrà autolimitata a 250 e poi, quando scadrà la garanzia, interveremo via seriale per andare a togliere il blocco e portarla presumibilmente sui 285 e 288, questo più o meno è il dato che ci viene fornito. Ultima notazione, soprattutto su macchine molto potenti, molto compresse, e per garantire i dati che vi ho fornito, l'ottimale sarebbe utilizzare benzina a 100 ottani. Quindi, un po' come il discorso delle potenze che sono indicate sul libretto, soprattutto su macchine tedesche, se andate a vedere nelle note, c'è un asterisco che vi dice che quella potenza viene garantita con un determinato tipo di benzina. Analogamente a quello che specificano le case, anche noi con Seletone abbiamo fatto un determinato settaggio di queste centraline e la potenza massima che noi indichiamo la si può ottenere ovviamente utilizzando una benzina a 100 ottani, che ovviamente ha una combustione molto più ossigenata rispetto a una benzina a 95 ottani. Io direi che anche per questo mostro di casa Audi è tutto. Qualunque informazione voi abbiate bisogno sulle Seletron, piuttosto che mi auguro che qualcuno abbia macchine analoghe o su anche macchine di più bassa caratura, io sono sempre in sede, mi trovate allo 027383175, vi invito come al solito, tutte le puntate lo dico, a consultare il sito perché lì imparate molte cose, anzitutto su quello che noi facciamo in generale, che non riguarda solo il motore, ma riguarda appunto anche altri ambiti, assetto, impianto frenante, modifiche estetiche e anche una normale meccanica. Noi nasciamo come preparatori, ma abbiamo fatto un calcolo che quasi il 50% dei lavori che facciamo sono normali riparazioni, quindi significa che la gente utilizza la nostra mano d'opera anche per fare delle normali riparazioni, tanto per intenderci una, due, tre, quattro, queste quattro macchine qua che abbiamo in carico con problematiche diverse, salvo piccole cose, salvo questa che faremo un discorso sulla turbina mettendo le giranti in avio, ma partendo dal fatto che deve essere revisionata la turbina, sono tutti lavori di riparazione, quindi poi nel momento in cui la macchina viene riparata, in questi due casi, sia la BMW 525 che la Honda Civic 1000, che tutte e due hanno avuto un problema di turbina, per cui sarebbe o da cambiare o da revisionare, ovviamente nel momento in cui si mette le mani sul pezzo, se si può fare qualcosa di più, in questo caso abbiamo proposto di modificare le giranti mettendo quelle in avional, lo si fa tranquillamente, però partiamo sempre dal concetto che una buona parte di vetture vengono a noi per essere rimesse a posto, per essere riparate, perché ormai il meccanico di vecchio stile è ormai una professione che si sta quasi estinguendo, quindi siamo molto contenti del fatto che tanta gente ci chiama e ci chiede appunto di poter mettere le mani sulla loro vettura per riparare delle problematiche che da altre parti non fanno e quindi non siamo conosciuti solo per potenziare le macchine, i freni, il motore, freni, asset o quant'altro, ma siamo conosciuti anche per normali riparazioni. Io direi che anche per questa puntata è tutto, cliccate sulla campanella e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima! Un saluto, alla prossima!